Fabio Miretti è un predestinato, un ragazzo formidabile, con talento, personalità, anche dei buoni piedi. Sprendi i tempi da centrocampista, bisogna soltanto farlo giocare. Tanto il livello di McKennie, di Rabiot, di Zaccaria, lo abbiamo visto, lo conosciamo, non è un livello che può portare la Juventus a vincere il campionato. Su Miretti ci si può lavorare, gioca uno Juventus-Roma veramente fantastico. Sette in pagella per lui, dominatore del centrocampo, anche contro giocatori più vecchi di lui, anche più preparati come Matic, come Cristanti. Domina la scena, Miretti, sette.